I nuovi posti di lavoro ci sono, ma mancano le persone da assumere. I motivi sono, in parte, la mancanza di candidati, in parte il fatto che a presentarsi sono persone non abbastanza qualificate. Un quadro che sta creando non poche difficoltà agli imprenditori. La situazione emerge da un'elaborazione effettuata dall'Ufficio Studi della CGA, secondo la quale manca l'appello addirittura al 32,8% delle assunzioni previste. Su poco meno di 500.000 assunzioni previste a gennaio di quest'anno, un terzo degli imprenditori intervistati ha segnalato che probabilmente troverà molte difficoltà a coprire questi posti di lavoro, circa 151.300, di cui il 15,7% a causa della mancanza di candidati e un altro 13,8% per la scarsa preparazione. A livello provinciale le situazioni più difficili emergono a nord-est, nella provincia di Gorizia, ma anche al sud. La percentuale media di difficile reperimento è comunque notevole. Fra il continente e il mezzogiorno variano di molto sia i numeri che le qualifiche ricercate, ma per la Sicilia i dati sono allarmanti. Le assunzioni previste in gennaio erano 19.250, il 26% non hanno avuto candidati adatti, il 10% non hanno avuto risposta, il 13,6% invece hanno visto rispondere candidati non preparati. E così con numeri più bassi, ma sempre circa un terzo di posti senza lavoratori, pronti a coprirli in tutte le province siciliane. A mancare in Sicilia sono cuochi, camerieri commesse e in genere le figure professionali legate al turismo, ma mancano anche tecnici informatici e gli autisti con patente C e D.